L'informazione di valore sul canale 18 Questa è Esperia TV I carabinieri porteranno alla luce una nuova truffa dall'assegnazione dei buoni spesa Covid nella Locride scattano le denunce per 135 falsi percettori uno dei tendoni dell'ospedale La Campo di Emergencia alla Sita Protone viene giù a causa del maltempo per fortuna non si registrano danni o feriti è uno dei casi oscuri e risolti dalla cosenza fascista l'omicidio di Paolo Capello la sua storia viene raccontata nel libro di Matteo Adalena dal titolo Il Garofano Spezzato benvenuti alla prima edizione di oggi 7 dicembre lunedì informazioni di Esperia TV dunque dicevamo, l'avete letto, sentito meglio dai titoli nella Locride 135 persone sono state denunciate perché hanno fornito false informazioni per poter ottenere i buoni spesa Covid-19 durante un primo lockdown tra questi figurano anche un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza già percettore di reddito di cittadinanza e la sorella di un latitante che nello stesso mese in cui ha percepito i buoni ha anche sottoscritto buoni fruttiferi per un valore di 7.000 euro vediamo tutto in questo servizio Hanno dichiarato informazioni non corrispondenti al vero per conseguire indebitamente i buoni spesa Covid-19 messi in media tra gli 80 e i 200 euro a disposizione di persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica durante il primo lockdown I carabinieri della compagnia di Bianco hanno denunciato nella Locride 135 soggetti per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Un terzo dei destinatari degli aiuti secondo quanto emerso dalle indagini risulta avere legami di parentela con soggetti appartenenti a Andrine o a famiglie di interesse operativo Tra questi figurano anche un sorvegliato speciale già percettore del reddito di cittadinanza e la sorella di un latitante che nello stesso mese in cui ha percepito i buoni ha anche sottoscritto buoni fruttiferi per il valore di 7.000 euro Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri è emerso che i soggetti denunciati avrebbero dichiarato di trovarsi in condizioni di difficoltà economica e di indigenza nel tentativo di indurre in errore le amministrazioni comunali Le informazioni fornite non correttamente vanno dalla falsa attestazione sulla residenza e sull'indicazione dei componenti del nucleo familiare all'omessa o falsa indicazione di ricevere nello stesso periodo altri sussidi sociali come l'indennità di disoccupazione periodi retribuiti di malattia dei braccianti agricoli pensioni di invalidità l'indennità di maternità e lo stesso reddito di cittadinanza Se avessero dichiarato questa entrata infatti i 135 soggetti denunciati avrebbero superato la soglia in grado di consentire l'ottenimento del buono spesa Covid-19 A conclusione delle attività è emerso che metà degli indagati risiede nel comune di San Luca Nella giornata di ieri si sono vissuti momenti di apprezzione nelle tende da campo gestita da Emergency davanti all'ex pronto soccorso dell'ospedale di Crotone il maltempo ha fatto afflosciare una delle tende in quel momento all'interno per fortuna non c'era nessuno La pioggia ma soprattutto le forti raffiche di vento nella giornata di domenica 6 di dicembre hanno fatto in qualche modo scattare l'allarme davanti le due tende installate dall'esercito italiano davanti l'ex pronto soccorso della San Giovanni Iddio lo ricordiamo due tende che fungono in qualche modo da ospedale da campo affidato dalla protezione civile nazionale all'associazione l'ONG Emergency guidata dal medico Gino Strada fortunatamente nel momento in cui una delle due tende in qualche modo è venuta giù non ci stava nessuno ricordiamo che la tenso struttura è stata immediatamente riparata l'ospedale da campo gestito da Emergency conta complessivamente 31 posti letto 23 dei quali ricavate all'interno dell'ospedale in l'ex area neurologia Stroke Unit e Hobby dicevamo è stata immediatamente riparata riparata fortunatamente in quel momento non c'era nessuno nella tenda e quindi tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo diversamente sarebbe andata in un altro modo la tenda si è leggermente sgonfiata una campata ma proprio leggermente e i militari nel giro di pochissimo tempo hanno ripristinato e l'hanno ripristinato non è successo nulla di particolarmente tra l'altro la tenda era anche non operativa quindi non è successo nulla di particolarmente importante sicuramente anzi sono qua hanno provveduto a sistemare il tutto ricordiamo che ieri nella tenda non c'era nessuno fortunatamente sì sì la tenda quella tenda da 8 posti letto servirà in caso di necessità ma in quel momento non c'era nessuno quindi non è successo nulla di particolarmente certo il maltempo ha colpito è stato molto molto forte ed è per questo motivo che c'è stato quel leggero si è leggermente sgonfiato dalla campata ma penso che tutto il sud Italia ieri è stato flagellato da un dato di maltempo veramente importante torniamo alla cronaca perché nove braccianti agricoli di origine africana impiegati in nero sono stati identificati a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro dai carabinieri che hanno denunciato il proprietario di un'azienda agricola i militari hanno effettuato una verifica ispettiva nell'azienda riscontrando delle irregolarità per lavori in nero e mancato possesso di alcuni dei braccianti impiegati nell'attività delle previste certificazioni medico-obbligatorie all'imprenditore è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 3.600 euro i controlli si inseriscono in un quadro dell'attività condotta dai carabinieri della Piana che già a inizio 2020 avevano portato all'esecuzione di 29 misure cautelari alcune delle quali in carcere nei confronti di caporali e titolari di imprese agricole che sfruttavano i migranti ospiti della vicina Tendopoli e ancora un'altra truffa per il conseguimento in debito di erogazioni pubbliche europee e nazionali è stata scoperta a Crotone dalla Guardia di Finanza che ha denunciato 11 imprenditori dopo un'attività di intelligence i finanziari hanno avviato un'indagine svolta per contestare i fenomeni illeciti connessi all'erogazione di contributi pubblici e possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche in particolare gli uomini delle Fiamme Gialle hanno scoperto numerosi destinatari di finanziamenti pubblici che erano stati precedentemente colpiti da misure di prevenzione personali e patrimoniali derivanti da condanne da reati di particolare gravità i finanziari hanno purato che questi soggetti hanno riuscito a ottenere in modo illecito contributi pubblici attraverso la presentazione di certificazioni false e l'omissione delle condanne per questo gli 11 imprenditori sono stati denunciati inoltre gli investigatori hanno quantificato l'ammontare dei finanziamenti percepiti in circa 300 mila euro chiedendone l'immediato sequestro cambiamo argomento la regione Calabria viene in aiuto dei comuni per l'utilizzo della piattaforma digitale relativa ai buoni spesa vediamo un aiuto ai comuni calabresci per consentire loro di poter gestire al meglio senza costi ulteriori l'erogazione dei buoni spesa finanziati dal governo nazionale su iniziativa dell'assessorato regionale a Welfare d'intesa con Anci Calabria la regione ha deciso di consentire ai comuni che ne facciano richiesta l'utilizzo gratuito della piattaforma digitale Welfare Calabria allo scopo di sostenere il lavoro dei comuni in una fase già di per sé complicata commenta l'assessore Gianluca Gallo abbiamo deciso di compiere questo passo oltre alle formalità di ordine burocratico e organizzativo legate all'erogazione delle risorse stanziate dal governo a sostegno del fondo di solidarietà alimentare Welfare Calabria è una piattaforma digitale già utilizzata dagli stessi comuni per l'erogazione delle misure di solidarietà in favore dei nuclei familiari in difficoltà che consentirà in maniera gratuita semplice e pratica di assegnare i buoni spesa destinati alle persone più fragili utilizzando tutte le risorse trasferite dallo Stato per i nuclei familiari bisognosi lo scopo è consentire agli enti locali una gestione facilitata delle risorse e delle richieste ferma restante la titolarità in capo agli stessi di qualsiasi responsabilità in ordine alla corretta erogazione delle provvidenze inoltre attraverso la piattaforma sarà possibile la puntuale verifica della posizione dei beneficiari così da permettere di conseguenza l'immediata attivazione dei buoni spesi alimentari per i nuclei familiari realmente bisognosi i cittadini selezionati avranno a disposizione un proprio account personale e il comune potrà controllare in tempo reale utilizzi e consumi dei buoni spesa i comuni interessati all'utilizzo della piattaforma dovranno presentare istanza utilizzando il modello di domanda che sarà disponibile proprio su www.syswealthcalabria.it dal 10 dicembre ed ora la pagina della cultura occupiamoci del libro Quel garofano spezzato Paolo Cappello muratore antifascista lo ha scritto Matteo D'Alena storico e giornalista è uno dei casi oscuri e risolti della cosenza fascista l'omicidio di Paolo Cappello raggiunto da due colpi di rivoltella esplosi la sera del 14 settembre 1924 sul ponte di San Francesco morto una settimana dopo a causa delle ferite riportate è stato riportato alla luce dal giornalista storico Matteo D'Alena dopo quattro anni di ricerca in archivi pubblici e privati e sugli articoli della stampa dell'epoca D'Alena ha ricostruito la vita del muratore nativo di Pedace e cresciuto nel quartiere popolare cosentino della massa con l'avvento del fascismo il muratore divenne uno dei più attivi oppositori a causa dei divori personali di un clima infuocato dagli omicidi del socialista Giacomo Matteotti e del fascista Armando Casalini fu colpito per vendetta il testo pubblicato dalla casa editrice Le Pecore Nere con il patrocinio dell'associazione Partigiani d'Italia e dell'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea è introdotto dal presidente Paolo Palma e dal docente dell'Università della Calabria Giovanni Sole per l'omicidio di Paolo Cappello furono accusati Antonio Zupi e altri membri della milizia fascista In quel garofa un spezzato cerco di portare il lettore a spasso per la cosenza di allora cioè tra i malfamati e fetidi vicoli del centro regno di malavitosi e prostitute ho cercato poi di proiettare un fascio di luce nell'anonimato nell'inconosciuto di questa di una vita di un povero Cristo sostanzialmente Il processo per stabilire le responsabilità individuali dell'omicidio non si celebrò mai La morte di Paolo Cappello ad oggi rimane impunita perché nel 1946 i presunti assassini beneficiarono dell'amnistia concessa da Palmiro Togliatti sono trascorsi 96 anni e la morte di Paolo Cappello chiede verità Alle 13.57 si conclude la prima edizione per quanto riguarda l'informazione di Esperia TV che torna questa sera alle 20.45 per gli aggiornamenti intanto spazio alla pubblicità e subito dopo Doc con il nostro direttore Salvatore Audi ci vediamo dopo Grazie a tutti